Ieri sera le volanti della questura di Ravenna hanno fermato un cittadino marocchino trovato in possesso di 4 kg di marijuana. Un cittadino marocchino, residente a Bologna, regolare sul territorio, con precedenti del 2008 per quanto riguarda rapine e lesioni, il quale è stato notato dalla volante durante un controllo del territorio a bordo di uno scooter che alla vista della macchina si dava a immediata fuga. Un piccolo inseguimento che si è interrotto nel momento in cui questo si disfa di questa borsa di colore azzurro con i motivi floreali verdi, con all'interno 4 kg di marijuana, come è stato poi acclarato dalla polizia scientifica in sede di controlli di narcotest che vengono fatti qui. Questo cittadino ovviamente è stato poi rintracciato nei pressi della sua abitazione, qui in centro cittadino, al quale è stata fatta una perquisizione personale e locale che ha dato esito positivo e quindi adesso la squadra mobile sta continuando le indagini per vedere la provenienza di questa sostanza stupefacente e eventualmente i complici di questo signore per lo spaccio in città. Il tutto ovviamente viene coordinato dalla Procura della Repubblica di Ravenna. Sara Pietracci per Ravenna Web TV